salve siamo alla cantina scacciadiavoli sono giuseppe scassellati della icam presento oggi un dessert da abbinare con un sagrantino passito abbiamo una mousse al cioccolato con acqua di ceci montata per croccante un fagioli bianchi pure con semi di papavero ed una spuma di acqua di cocco andiamo a montare il piatto creiamo delle quenelle di cioccolato aggiungiamo del croccante ed infine della spuma di cocco che in questo caso abbiamo abbattuto un tocco floreale di colore completiamo il nostro piatto con del passito o semplicemente beviamo a parte lascio la parola al nostro enologo io sono liupan buffetti dalla cantina scacciadiavoli e abbineremo con questo piatto il nostro montefalco sagrantino passito di ocg è un vino che ha origine sacra da cui il nome sagrantino è nato come vino dolce e infatti viene prodotto con l'utilizzo di grappoli essiccati su graticci è un vino da meditazione e viene affinato in barrique per circa due anni grazie 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 a tutti.